Ma sei cieco allora Ciao a tutti ragazzi sono i Fitretton e ben ritornati in questo nuovo video Oggi siamo con Aerobrine a fare una sfida tra case Casa piccola contro casa grande Ciao ragazzi Lui farà la casa grande e io farò la casa piccola quindi iniziamo Ciao a tutti 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 No, perché te l'avevo messo in avventura Adesso sei in sopravvivenza Prendi i bottoni I bottoni non possono Eh Quella porta di ferro Eh È inutile che guardi Non vale Non vale fare così Non vale Chico, dai fa qualcosa con quei bottoni No, non questo Un'altra cosa Ma non scava la terra Non lo so, prova Oh Lo sai che adesso sei bloccato dentro No, aspetta Ne avevo messi due apposta Vieni fuori Ok Prendi anche quell'altro No Esci Vieni Eh Chissà perché Ma sei cieco allora E l'ha trovato Raga L'ha trovato Beh ragazzi Votate nei commenti Chi ha vinto Iscrivetevi al canale Lasciate un bel mi piace Arriviamo a 10 like Per altri video Server discord In descrizione Da Infistrator È tutto